buongiorno a tutti allora film pettino da brr che freddo che fa perché dobbiamo parlare dello slalom speciale maschile di Chamonix che si è disputato sabato 30 gennaio libidine una bellissima prima manche con tre atleti racchiusi in soli tre secondi al comando c'è marco schwarz davanti di soli due si racchiusi in soli tre secondi racchiusi in soli tre centesimi ci manca tre secondi e sciambola soli tre centesimi al comando c'è marco schwarz dicevamo davanti di solo due centesimini sul gigante buono zenosem e a tre centesimi c'è il francese clamor noel da segnalare l'uscita dopo poche porte di christopherson che non riesce a capire praticamente si è fermato detto era lì più basito che perplesso più perplesso che basito e ci è rimasto molto male però si è fermato subito perché si è reso conto di aver inforcato e quindi ciao ciao gara per quanto riguarda gli italiani ce ne sono ben cinque dei trenta ma il primo è diciottesimo quindi vi lascio immaginare gli altri come sono messi il diciottesimo è ales vinazza con un distacco di 181 poi mi stoppo un attimo e poi andiamo avanti dicevamo diciottesimo vinazza poi ben quattro atleti pensate quattro atleti al ventiquattresimo posto e tre di questi sono italiani perché abbiamo borberger gross e bulk a 2 e 05 di distacco quindi sala che è ventottesimo speriamo riescano a recuperare qualche posizioncella la classifica dopo la prima mancina vede sfalza al primo posto zenoso del secondo a due centesimi duele terzo a tre centesimi for sole va che sempre lì è sempre lì come il prezzemolo dei primi cinque è a 42 centesimi matt è quinto a 67 feller pazzarello feller e sesto a 73 centesimi dei yard e settimo 87 centesimi pinturo e ottavo 88 centesimi poi abbiamo jacobsen a 1 e 08 e coroscio anche lui a 1 e 08 al nono posto all'undicesimo c'è buffa jean de ve lo dico perché visto che sono i due al nono posto e non c'è il decimo poi diciottesimo vinazza al ventiquattresimi mol grosse morberger e ventottesimo sala lasciamo qua la prima manche perché poi faremo la parificazione se vi passate il termine tra prima e seconda manche per vedere le differenze detto questo mi ristoppo un attimino e poi andiamo a vedere come è data la seconda manche seconda manche da Chamonix il primo a scendere è Grange vediamo quale sarà il suo tempo finale se riuscirà a recuperare qualche posizione il suo tempo finale è 1 40 e 27 bene 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 tocca a luca a ernei ventidovesimo dopo la prima manche e vantaggio di soli tre centesimi vediamo lui cosa combinerà non è una libidine non è una doppia libidine è una doppia libidine con i fiocchi e i controfiocchi perché si prende il primo posto con ben un secondo e 22 di vantaggio a ernei rischia di entrare nei primi 15 anche perché sono tutti ravvicinati calcolando che ne abbiamo anche 4 al 24esimo posto e sono lì abbastanza vicini ci sarà veramente da divertirsi tenete conto il diciottesimo che minazzerà 34 centesimi di vantaggio su luca erbi che ha fatto una seconda manche da paura paura intanto tocca al nostro tommaso sala un centesimo sullo svizzero di vantaggio e ventottesimo dopo la prima manche importante stare il più vicino possibile all'uscita un autore elvetico ma purtroppo è soltanto quarto a un secondo e 43 vedremo se recupererà lo stesso qualche posizioncella in ogni caso per tommasino su sempre punticini e punticini portano a migliorare il pettorale per ora nessuno riesce a star davanti a ernei tocca al ventiquattresimo come vi dicevo sono in quattro al ventiquattresimo posto e 10 centesimi sullo svizzero vediamo se il vecchio leone ruggirà ancora purtroppo è un ruggitino perché è soltanto quarto con un ritardo di 1,75 male male mannaggia mannaggia come direbbe e da tocca stagros anche lui ventiquattresimo e anche lui con 10 centesimi su erne meglio degli altri ma anche lui paga un botto visto che è a 1,16 dallo svizzero al secondo posto comunque secondo posto va bene perché forse forse anche se hai perso una posizione magari qualcuna la recuperi lo stesso e se no male che vada sarà venticinquesimo o dipende dagli altri visto che sono in quattro al ventiquattresimo posto ne mancano ancora due e uno di questi è Bornberger anche lui ventiquattresimo anche lui con 10 centesimi sull'elvetico niente da fare nessuno riesce per ora scalzare ernei dal primo posto lui è appena appena dietro a gross a 1,21 di ritardo quindi 5 centesimini in più di gross però è lì è lì è lì visto che ernei ha fatto un garone da paura non si sa mai tocca a Binazzer diciottesimo dopo la prima maschina e vantaggio come dicevo prima di 34 centesimi vediamo se riuscirà a stare davanti allo svizzero perché ha fatto veramente una seconda maschina paura e mi sa che questo non solo entra nei 15 mentre anche nei 10 purtroppo ha fatto un miracolo a stare in piedi all'albertone tomba per intenderci ma paga la bellezza di due secondi e 0,3 di ritardo il nostro Binazzer e per ora è dodicesimo cioè ultimo ncs non ci siamo incredibile quando mancano solo otto atleti alla fine della gara luca erni ventidovesimo dopo la prima masch e saldamente al primo posto con 40 centesimi di vantaggio su koroshilov pensate un po' che recupero da paura e non è ancora finita è perché bisogna vedere gli altri se riescono a stargli davanti comunque la classifica a otto atleti dalla fine venne a erni primo a koroshilov secondo a 40 centesimi ismuel è terzo riding è quarto adalin è quinto pertl e buffa jandè sono sesti a pari merito zubcice iule sono ottavi a pari merito e al decimo posto c'è l'illustrasser tocca a feller perché dei pinturo dei beijar sono riusciti a stare davanti ad a erni vediamo se ci riesce pazzarello feller sesto dopo la prima mancia e vantaggio di un secondo e 42 su sullo svizzero che è tanta roba vediamo se lui ce la farà stagli davanti dopo il primo intermedio in luce verde di 1 e 42 inforca un attimo prima del secondo intermedio che praticamente ha inforcato poi ha superato il punto del secondo intermedio aveva ancora un secondo e 13 di vantaggio ma avendo inforcato il signor feller saluta la gara e a erni ringrazia gentilmente fa soli ma anche lui deve arrendersi ad a erni e finisce dietro quindi tocca a noel terzo dopo la prima mancia vantaggio enorme di 2 secondi e 12 sullo svizzero e vediamo se lui con un po po di vantaggio di 2 secondi e 12 riesce a stargli davanti alla fine si prende il primo posto e naturalmente si garantisce il podio con 47 centesimi di vantaggio però signori miei da 2 secondi e 12 a 47 centesimi ha perso più di un quarto più di tre quarti del suo vantaggio più di tre quarti del suo vantaggio che gara ha fatto a erni tocca al gigante buono zenoese vantaggio di un solo centesimo sul francese e secondo dopo la prima mancia per il podio deve stare dietro al massimo di 47 centesimi e sarebbe poi pari merito con a erni invece riesce a starci dentro e secondo a 16 centesimi di ritardo dal francese ma era tenete conto a 63 centesimi di ritardo al secondo intermedio guardate quanto ha recuperato dal secondo intermedio all'arrivo quindi ha fatto una seconda parte di seconda masce alla grande e si è garantito comunque il podio il gigantone buono a questo punto c'è solo Sfars tra la vittoria e il francese e tra il podio e a erni vediamo Sfars cosa convigna anche lui naturalmente se vuole il podio deve stare massimo dietro al francese di 47 centesimi o se vuole il secondo posto deve stare a pari o sotto i 16 centesimi di ritardo e invece è terzo a 19 centesimi da Noël pensate Sfars è al settimo podio in slalom su otto slalom e l'altro è arrivato nono quindi si sta garantendo quasi la coppa di specialità perché con questa continuità col fatto che in slalom ci sono stati tutti i vincitori diversi lui che è quello che arriva sempre al podio non ha ancora vinto però è sempre a podio quindi libidile adesso mi stop un attimo e poi facciamo la comparazione allora prima della comparazione la classifica finale poi vediamo tra prima e seconda match come è andata la classifica finale vede la vittoria del francese Noël davanti allo svizzero Zenosene e a Sfars che dovrebbe essere austriaco spero di non sbagliarmi al quarto posto c'è un Erni miracoloso che ha recuperato ben 25 posizioni al quinto c'è Matta, al sesto c'è Meliard, al settimo c'è Koroshinov all'ottavo c'è Pinturo, al nono c'è Foss Sollevag e al decimo c'è Hirsch Buell per quanto riguarda gli italiani Gross è diciottesimo Borberger è diciannovesimo Sala è ventiquattresimo Bolg è ventottesimo e Vinazzer è ventinovesimo quindi Vinazzer perde un botto perde bene undici posizioni Berg ne perde quattro Sala ne recupera quattro Borberger ne recupera cinque e Gross ne recupera sei detto questo ragazzoli andiamo a vedere com'è andata tra la prima e la seconda match alla fine della prima match Koroshinov era nono a pari merito con Jakobson e Koroshinov è salito al settimo posto quindi recupera due posizioni Jakobson ahimè esce dai dieci Pinturo era ottavo e resta ottavo Meliard era settimo e recupera una posizione e finisce al sesto posto Feller era sesto ma ha salutato la gara Matta era quinto e finisce al quinto posto Fossola e Vaghera quarto e finisce al nono posto quindi perde cinque posizioni Noelle era terzo e ha vinto Zenosen era secondo e resta secondo Esfars era primo ed è sceso al terzo posto quindi i primi tre si sono solo scambiati le posizioni il terzo ha preso il posto del primo e il primo è andato al terzo e Zenosen è rimasto sul podio al secondo posto una gara comunque bellissima come sempre lo slano speciale regala rimontone da paura e sempre sorprese tra i primi perché capita spesso che chi finisce la prima mancia al primo posto poi non vinca la gara ma magari resta comunque sul podio e ne è felice lo stesso detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio vado a vedermi il secondo tempo di Atalanta Lazio e ci vediamo ai prossimi video ciao 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 ciao